Sono riuscita a tornare a casa dopo un viaggio abbastanza lungo. Siamo partite io e una mia collega il primo marzo da San Pietroburgo ad Helsinki in autobus, un viaggio di sette ore, di cui un'ora e mezza al confine per i controlli. E poi ieri abbiamo preso il volo dall'aeroporto di Helsinki a Milano Malpensa. Ha appena finito il collegamento online con l'Università di San Pietroburgo, città che ha lasciato solo martedì, e spera di continuare a seguire il suo corso. 23 anni, Sabrina Salvato è studentessa magistrale del corso di laurea in Scienze del linguaggio di Cafoscari e in Russia, dove era arrivata i primi di febbraio, doveva restarci fino a giugno. Tranquilla fino al giorno dell'attacco, il 24 febbraio è segnato per lei come per una ragazza milanese che l'ha accompagnata nel rientro, la svolta. La mattina del 24 è stato un brusco risveglio, perché appunto abbiamo visto le immagini, abbiamo letto le notizie, è iniziato a percepire proprio un senso di preoccupazione per il futuro. Poi la sera stessa c'è stata la prima manifestazione a San Pietroburgo, in cui ci sono stati molti arresti, e infatti avevamo in programma di andare in centro, ma abbiamo preferito evitare. Ad accrescere l'ansia, i messaggi arrivati dalla Farnesina, che lunedì ha invitato gli italiani in Russia a rientrare, si sente una privilegiata Sabrina per il suo viaggio quasi facile, un biglietto di Pullman acquistato prima che si esaurissero, l'arrivo nell'Unione Europea, in Finlandia, in poco più di sette ore, la vita in Russia era già cambiata, racconta. Un paio di giorni dopo il primo attacco ho provato a prelevare dei soldi, ci sono riuscita, però c'era già carenza di liquidità, uno sportello vicino al dormitorio non aveva più contanti, non poteva più darne, e gli altri avevano dei tetti massimi, abbastanza bassi. Il prelievo fatto da Sabrina, poco più di 40 euro, il massimo possibile, giorni drammatici vissuti accanto a un popolo, quello russo a sua volta inerme. C'è un clima di rabbia, di frustrazione, di dolore nei confronti di un governo che non segue il volere del popolo, che con la forza da una parte attacca, come abbiamo visto, ma anche reprime. Ci sono stati quasi 7.000 arresti fino a ieri, in cinque giorni di proteste, e comunque parlando con i russi si percepisce proprio questa rabbia, questo senso di impotenza verso delle decisioni che sentono non dipendere da loro.